Oh, sono così emozionato! Sono quasi pronto per volare sulla Luna! Mi serve soltanto un po' di potenza! Darrington, guarda laggiù! È la centrale di energia solare! Wow! Osserva! La luce del sole risplende su tutti quegli specchi. Poi gli specchi riflettono la luce solare su quella torre. È lì che il calore della luce solare si trasforma in energia per la nostra batteria. Che bello! Facciamo il pieno! Ehi, c'è qualcosa che non va! La mia batteria non si ricarica! Per mille bulloni, quelle nuvole scure bloccano la luce del sole! E senza sole, la centrale non può fornire energia per ricaricare la batteria! Oh, ma guarda! Le nuvole non bloccano completamente il sole! Laggiù c'è ancora qualche raggio! Presto! Usiamo uno specchio per rinviare quei raggi di sole verso la centrale solare! Sta funzionando! Stiamo inviando la luce del sole verso la centrale solare! Così ora la mia batteria potrà ricaricarsi di energia! Oh-oh! Le nuvole si stanno spostando di nuovo! I raggi di sole stanno scomparendo! Sì, però ci sarà pure qualche altro raggio di sole qui intorno! Guarda! Laggiù ci sono altri raggi di sole! Avanti! Sbrighiamoci! Quando vedi un raggio di sole... Di... raggio di sole! Raggio di sole! Uh-oh! Guardate ragazzi! Funziona! Uh-oh! Ma il raggio di sole se ne va di nuovo! Avanti! Cerchiamo un altro raggio di sole! Quando vedi un raggio di sole... Di... raggio di sole! Raggio di sole! Ora la batteria di Darrington si è caricata completamente? Sì! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! A questo punto devo soltanto reinserire la batteria nel mio razzo... Così finalmente potrò volare... Fin sulla luna! Un momento! Lo avete sentito anche voi? Conosco quel clacson! Eccoli! Sono Blaze e Darrington! Ciao a tutte! Mega macchine! Sono tornato! E questa volta ho abbastanza carica... ...d arrivare dritto dritto sulla luna! Sono sicuro che riuscirà davvero a volare sulla luna! Hai ragione, amico! Ce la farà senza ombra di dubbio! Beh, buona fortuna, Darrington! Già, noi resteremo qui a fare il tifo per te! Ehi! Aspettate un po'! Ho due posti per voi sopra il mio razzo! Volete volare insieme a me fin sulla luna? Ma certo! Sì, ci puoi scommettere! E che aspettate? Saltate su! Occhiali spaziali? Ok! Rampa di lancio pronta! Su, cominciamo il conto alla rovescia! Conta all'indietro con noi! Inizia da cinque! Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! Lancio! Oh, sì! Panta! Panta! Uh! 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 Sì! È forte! Eccola! Guardate lì! La luna! Wow! È incredibile! Già! E non hai ancora visto tutto! Guarda che cosa facciamo adesso! Yeh-hù! Woo-hoo! 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 Yeh-hoo-hoo! Go! Sì! Oh, sì! Sono talmente felice che mi sento sulla luna! Woo-hoo! Blaze, guarda! La nostra vela! Per tutti i bulloni, il vento la sta portando via! Andiamo! Avremo bisogno dell'aiuto di tutti per recuperarla! E adesso che cosa facciamo? Non troveremo mai un'altra vela! Mai! 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 Oh, eccone una! Eh, però deve essere di Blaze! Non per molto! Forza, Piccol! Prendiamo quella vela e montiamola sul nostro catamarano! Beh, sai, non credo che sia una buona idea perché... Guarda! È la nostra vela! Il vento l'ha fatta finire sulla cima di quella montagna! La prendo io! La prendo io! Oh, no! La prendo io! Crusher vuole prenderci la vela! Coraggio! Dovete arrivare in cima prima di lui! Eh, io ho trovato! Possiamo raggiungere la vela in frettissima se sfruttiamo l'energia del vento! Ci serve un aquilone! Gli aquiloni sfruttano il vento per alzarsi nel cielo! Vediamo che pezzi servono per riuscire a trasformarmi in un aquilone! Primo, ci serve un cavo di ritenuta! Si tratta di un lungo filo che ti permette di controllare l'aquilone! Per crearne uno diciamo insieme... Cavo di ritenuta! Cavo di ritenuta! Bene! Poi ci serve un rocchetto per dare più o meno filo all'aquilone! Per creare il rocchetto diciamo... Rocchetto! Rocchetto! Ora per dare la forma all'aquilone ci serve un telaio! Diciamo... TELAIO! TELAIO! Infine, come ultima cosa, abbiamo bisogno di una vela per poter sfruttare la forza del vento! Diciamo... Copertura! Copertura! Guarda un po'! Mi sono trasformato in un... Aquilone Monster Truck! Wow! Sei un aquilone davvero fantastico, Blaze! Grazie, amici! Adesso afferrate il rocchetto! Questo aquilone è pronto a volare! Oh-oh! Sì! Sta funzionando! Il vento ti spinge sempre più in alto! Wuh-huh! Sì! Come voli bene, Blaze! Finalmente quella vela sarà mia! Soltanta mia! Oh, guarda! Blaze è diventato un aquilone! È diventato cosa? Wuh-huh! Abbiamo preso la vela Perfetto Ok ragazzi, tirateci giù È stato incredibile Grazie Ora montiamo la vela sul catamarano Così potremo tornare a casa L'imbarcazione è riparata Ottimo lavoro, Gabby Già, adesso possiamo tornare ad Axel City Guardate un po' l'umache Ho aggiustato io la barca per primo Sei sicuro, Crusher? Il tuo catamarano non mi sembra a posto E quella non è una vela Sono dei pantaloni La mia barca è la migliore E sta per navigare Ma peccato che stia per affondare Affondare? Presto, diamogli una mano Agli ordini, Capitano Blaze Ehi, afferrate questi Evviva! Blaze ci ha salvati Sei grande Tu sei il mio eroe Grazie, grazie, grazie Non c'è di che, Piccol E adesso facciamo vela verso Axel City Si torna a casa Andiamo! Un po' di meritato riposo, finalmente Già, da adesso in poi filerà tutto alla grande Oh, aia, 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 aia Qualcuno ci sta chiamando Oh, è lui, mister pattome Mi stavate cercando? Mi spiace Blaze e AJ Ma siete arrivati tardi Come potete vedere Ho posizionato la spazzatura Matic In cima al grattacielo più alto di Axel City Al grattacielo più alto di Axel City? E per quale motivo l'hai fatto? Non l'hai capito Da quassù posso sparare i rifiuti su tutta la vostra città Devo solo premere questo pulsante e... Attivare la modalità super mega immondizia Ora la mia macchina è carica di rifiuti Rifiuti che sparerà tra esattamente 60 secondi Solo 60 secondi? Dobbiamo sbrigarci a fermare la macchina Per mille bulloni c'è un muro davanti a noi Per provare a superarlo Dobbiamo usare il potere del riciclo Cerchiamo altre lattine come questa Per trasformarle in una palla da demolizione Con cui buttare giù quel muro Guarda attentamente Quando vedi le lattine di... Lattine! Potere del riciclo! Sì! Blaze, guarda Ecco il grattacielo con la spazzatura Matic Mi spiace, non farete in tempo Perché mancano soltanto 15 secondi Presto! Dobbiamo costruire qualcosa per arrampicarci E all'aspetto! Eh! Potremmo riciclare delle scatole di cartone E farne delle ali Così potremmo salire volando Quando vedi scatoli di cartone di... Scatole! Scatole! Potere del... Riciclo! Cinque secondi! Quattro Tre Due Sì! Missione compiuta! La spazzatura Matic è fuoriusa! Niente bottiglie Niente lattine Niente più Po-po-po-po-pattume Non piangere, mister Pattume Sì! E poi coi rifiuti puoi fare cose più intelligenti Che gettarli per terra Davvero? Del tipo? I rifiuti si possono trasformare In nuovi oggetti da utilizzare Questo si chiama riciclare Guarda, ti faccio vedere Potere del... Riciclo! Caspita Hai usato quelle bottiglie Quelle lattine E quelle scatole Per creare Una pista nuova di zecca Questo è incredibile Oh, Blaze AJ Mi spiace di aver sporcato la città di rifiuti Ma vi do la mia parola Che questa è stata l'ultima volta Perché ora Adoro Ri-ri-ri-riciclare Oh, yuhu! Bravissimo! Così si parla E ora Che ne dite di fare un bel giro di prova Sul nuovo entusiasmante circuito riciclato? Buona idea! Sì! E io so come rendere la corsa più divertente Usando la velocità del lampo La velocità di cosa? Uh, ma che meraviglia! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Sì! Noi ficipiamo Uh, 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 uh Puoi farlo anche tu Bicicla! Noi ficipiamo Uh, 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 uh Puoi farlo anche tu Bicicla tu Come noi!